Cosa avrebbe rimproverato Simona presentatrice alla Simona concorrente? Cosa invece avrebbe apprezzato? Questa è una bella domanda, ci piace? Questa è una bella domanda che mi hanno già fatto, per esempio sull'accendino io non avrei avuto pietà assoluta, però vedi come cambiano nella vita le cose, facendo parte io di un gruppo e volendo essere del gruppo e allo stesso livello del gruppo non potevo esimere, mi erano da essere complice di questo, diciamo... In danno? Sì, questo danno, però fondamente, da conduttrice li avrei aperti come delle cose, partendo dal presupposto che non si fa. Però sai, quando sei lì, insomma, tutti per uno, per me almeno è sempre stato così, tutti per uno, uno per tutti. Grazie. 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 Grazie.